Ciao ragazzi, come va? Spero tutto bene. Volevo dirvi una cosa, prima che inizi il video, se non cresco di canale, raga, mi dispiace, ma il canale verrà chiuso a breve, mi dispiace, perché, cioè, sono bloccato con gli iscritti da tipo due mesi, tre mesi, cioè, non salgono niente, cioè, capite bene che se voi non mi aiutate, nel senso, a crescere o qualsiasi cosa, raga, tipo, a condividere queste sciocchezze qua, mi dispiace, ma porti i video volentieri, perché sì, cioè, mi piace, perché, se no, non vi caricherei tutti i giorni, non vi farei live su Twitch, su YouTube, tutte cose, ma, se non cresco, raga, mi dispiace, ma, entro poco tempo, insomma, verrà chiuso, perché, cioè, mi porti i video, mi ci impegno e tutto, e poi vedo che non crescono, non c'è stata una condivisione da parte vostra, cioè, capite bene che, non vedo che vengono ben apprezzati i video che faccio, quindi, raga, detto ciò, vabbè, vi lascio al video, dai, ciao, 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 ciao scambio con gli expi dal bastoncino due bastoncini e 64 boccette vi danno 8 la di blocche vabbè questo è quello che la che i blocchi vip normale e vabbè pure chi non è vip insomma c'è la che blocca basta andare nelle miniere e andrete spaccherete e sono veramente fighi pure quelli normali è perché se andiamo per esempio che ne sono guarda a quando le quarte ha spacchiati e vi daranno pure questi qua cose fighe cose fighe otto dove noto tu che vabbè una craft in tempo quello è sempre un 7k 10k insomma parecchie parecchie cose poi ogni era anche stato un ira che vado slash runs ranks dicevo grazie mille a un ira che avrete un kit vuoi partire che per entrare nel servizio dei nuovi devo fare slash guard mercurì e vi trovo da questo qua che c'è di un kit poi si arrancare anche la ruota arriva dal venus e lì c'è da un altro kit qua un altro kit con un altro kit insomma c'è di tanti vari kit insomma però oggi siamo qui perché sono al ruptimo rank come vedete raguardo saturno perché l'ultimo quarto è saturno eccoci qua questo è l'ultimo guard che insomma è abbastanza faico è abbastanza faico c'è 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 non so se rendo bene l'idea poi qua ogni 2500 blocchi vi daranno 25 token un guardare l'articolo perché io qua ho messo per laghi manga 5 insomma comunque oggi siamo qua perché ho 8 q e voglio prestigiare prestigiamo allora prestigi se è prestigi vai o a 1 a 1 a 1 allora guarda allora ball ball top vediamo se sono ancora in ball top otto q what the f*** easy what is your name right in my next one was us cadetto allora facciamo max rank up watt watt presige oh mio dio che cacca è successo quarta fa che un altro prestigio potrei fare però se non ci stanno altri prestigi infatti si verranno messi a previ tranquilli 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 allora andiamo alla mia stazione facciamo se non si lascia stadion questa è la potete o mio dio god god abilitata ok si esplodete fate tutte le cose che vi piacciono a voi perfetto qui abbiamo un pochettino di xp da cambiare what qualche caso è successo regalo da parte di xavier allora per il video ottimo 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 guardate qua quanti laghi blocci salve ovviamente pure noi andiamo a comprarli facciamo pulizioni con i nostri aron golem salve aron golem e poi anche crepare grazie mille buongiorno e buonasera anche voi potete crepare benissimo perfetto qui questi sono tutti xp che dovremo cambiare che dite facciamo un piccolo timelapse dove cambia tutte queste cose perché il senso cioè come potrei cambiare se no allora mettiamo queste crete qua il mio piccone lo mettiamo qui mi svuoto l'inventario e vi beccate un piccolo timelapse oh you make me wanna talk about talk back to you say you say you like that if i hate you then find someone new baby but you know i never will no so i choke you down just like a pill yeah oh you make me wanna talk back and vary oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah take you like a pill Grazie a tutti 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 Perfetto Allora finiamo di rack Di riprendere tutti questi laghi blocchi Sanno qua ci mettiamo 20 anni 5 mesi 5 giorni E riuscirà il video di 4 ore E cambieremo tutti Con una semplice schiocco di tita Chi ve ne fa queste magico? Ma ditemelo voi E poi non mi mettete a condividere Cioè non si fa così raga Non si fa Non si fa Allora facciamo slash ec Ci prendiamo questa wand Poi riabilchiamo qui la fly Ok usciamo fuori dalla stazione Ok usciamo fuori dalla stazione da qualche parte Si esce da qualche parte giuro che usciremo E andiamo di qua L'aria non c'è ma noi ce ne fotte niente E ce ne andiamo di qua Allora Chiudiamo questo buco qui Qua E poi facciamo Forse qua devo chiudere il buco Ok C'abbiamo giusto qualche laghi blocchi raga Ma giusto 1 2 Beh si giusto qualcuno Giusto giusto qualcuno Aspettate raga che mi cambiano L'armatura Ok armatura cambia Perché quando venite Create la stazione dovete mettere questa armatura qua E ve la danno proprio inizialmente Ok noi spacchiamo i primi lucky block Vediamo 1750 di xp 1b 3b 1750 di xp 800 milioni 45 token 1200 1303 lucky key 20 token 1300 1b Raga non gliela faccio mi sto piccola lingua Mi sto piccola lingua a 1300 xp 1b 1b 20 token 45 token E poi facciamo No raga E' il paradiso Il paradiso E' il paradiso Ma to Forse ecco perché Scrivete perché canto Dimelo voi se perché non canto Cioè non canterò mai più Non farò più niente Cioè diventerò un prete Ah ti capito no Diventerò tipo capito Prate Strix locks Sarà molto molto figo Era veramente molto figo Vabbè Apriamo un paio Ne apriamo un paio Non tutti perché Cioè capite bene che C'è che c'è tanto Momento Non ho levati i soldi Perché dovevo ripresti Cioè capito 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 Quando prestigi In teoria Levano i soldi Ma questa roba Questa cosa la faremo Fixare Avete capito Avete capito Ok Quindi ci lasceremo Per ritornare a questo rank Salve signor Keldro Io ti ammazzo con il piccone Ti ammazzo con il piccone Cioè c'è poco da fare C'è 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 veramente poco da fare Allora Abbiamoci tipo Uno stack Due stack Tre stack No vabbè Troppo Ma non esageriamo Non esageriamo Ci apriamo Uno stack Diciamo uno stack E mezzo di Lucky crate Lucky crate E poi facciamo Warp Kratos Ok Ecco Warp Kratos Adobado Specialmente Per Halloween Ci apriamo Un paio di Oh Altri xp No Oh È vero Passa xp Bossa Se casca è meglio Raga Non la voglio Non la voglio Cioè non la voglio Non la voglio Perché quanto non la voglio Questi Se gli faccio Slash Cestino E la buttiamo Tutta tutta qua Insomma Sti la Qui Di blocche Normali Cioè veramente Oppure Vi rimette all'asta Questi La Gip Il primo Che arriva Nuovo Se li prende Guardate Guardate Lo mettiamo qua Poi facciamo Vabbè Prima Apriamo Noi tutti Così vogliamo Trovarci La Gip Bloc E poi Vi rimette All'asta Così Una bella Partenza Per chi Arriva Per chi Arriva Insomma Apriamo Ancora Apriamo Ancora Guardate Quanti I soldi Guardate I nostri Token E come Crescono I soldi Inutile Che guardare Perché l'altro Non crescono Non crescono Ma C'è 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 5,2 B C'è Q Q Allora Cestino E buttiamo Tutti Questa Roba Qua Tata La Mitraglietta Mi servirebbe La Mitraglietta Mitraglietta Ok Bassa Facciamo Così Poi Questi A Boa 50 Dai Giusto Così Perché voglio Essere Buono 50 Ok 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 Andiamo A costruire Oh Ci abbiamo Anche Kit Le Skakei No Raga Perché Non saprei Dommettere C'è Qua sarebbero Tutti i kit Che potete Trovare No Saturn Newton Tutti Insomma Tutti 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 Ci siamo Fatti Un paio Di token Siamo Arrivati 8000 Token C'è Non voglio Quasi 39.000 Mamma mia Stat Facciamo Perché Ci facciamo Una bella Di Blades Vabbè Compriamoci Giusto Due Spawner Giusto Proprio Due Allora Facciamo Spawner Compriamo Giusto Due Al volo Ok Penso Che 5 Stack Di Spawner Bastano Secondo Me Bastano Poi Ditemelo Se non Bastano Non Bastano Raga Ditemelo Mi raccomando Che li Aggiungo Giuro Li Aggiungo Voi Mi Dite Un Numero Io Aggiungo Tutti I Numero Ovviamente Insomma Da Cioè Avete capito No Un massimo Di 5000 Che ne so Ste cose Qua Ste cose Così Belle Allora Io stavo Cercando Non mi Ricordo La terra La terra Noi facciamo Slash Shop Facciamo Slash Shop Shop Normale Brocchi Normali E ci Compriamo Un paio Di stack Tipo 9 stack Giusto Per Qua Quindi Allarghiamo Giusto Un po Giusto Quel poco Che basta Cioè Capito No Giusto Pochissimo Poco Poco Tipo Così Giusto Poco 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 Poi Allarghiamo Anche Di qua Però Allarghiamo Da qua Che facciamo Molto Prima Facciamo Prima Se la Campo Che Tiene Normale Sto Pensando Leggermente Un po Di Blocchi Alla Volta Cioè Capito No Hai Capito Un Prem Altra Terra Cioppete Cioppe Normale Blocchi Blocchi Di terra Altri Nove Stacche Massima Che ce ne Fotti A noi Cioè Mica Siamo Poveri Cioè Capito Compriamo Nove Stacchete E Facciamo Tatacchete 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 Ok Perfetto Penso Che Tutto Questo Spazio Ci Basta Oppure Aspetta Facciamo Un altro Poi Ci Liamo Tutta La Terra Di Mezzo Tutta La Terra Tutta La Terra E poi Mettiamo Un paio Di Questi Perché Sono Qua Cominciano A Sporare I figli I figli Di Putin I figli Putin Che Pensate Di voi Chi Cominciava A spawnare Mi Scusi Mi Scusi Ma Voi Che Esplodete Oddio Mi Avete Ucciso Mi Avete Ucciso Siamo Shop De Compriamo Altri Blocchi Così Cominciamo Costruire La Farm In Senso Questi Ci Serviranno Per L'acqua E Ok Facciamo Tutto I Brick Ma Sì Ma Che Ce Ne Su 9 Stack Vai Con I 9 Stack Allora Il Bucolo Farremo Largo 2 Poi Abilire Insomma Abiliremo Insomma Hai capito Avete Capito Allora Facciamo Tac 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 Perfetto Tac 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 Perfetto Adesso Salimo Un po Con La Wand Così E Così Così Penso Che Vada Più Che Bene Anzi Un altro Po Attenzione È Riguardo Lo Stracciarolo Ragazzi È Arrivato Lo Stracciarolo Quindi C'è Arrivato È Arrivato Ok Lo Stracciarolo Se È 4 5 5 5 1 4 5 Ok 1 2 3 1 2 3 4 5 Ok Perfetto Perfetto Siamo perfetti Noi E poi vediamo pure se ho fatto giusto Perché mi cosa so Questo non lo so Che questo figa non lo so C'è io non lo so Allora facciamo così Facciamo così Se vede che faccio Lo scemo Ragazzi È normale Tranquillo Tranquillo Non è Non è nulla di Insomma Insomma è normale Dai Ok Qua è giusto 1 2 3 Ok Proviamo a mettere l'acqua Vai acqua Arriva fino a lì Perfetto Ma quanto sei british Oh Abbiamo fatto preciso Ok Mi sono imparato a fare i quadrati Perfetto Perfettissimo Perfettissimo Sono capace di fare i quadrati Di questo non sono orgoglioso Orgoglioso proprio nell'anima Ok Ok Tirano un po' so Sopra Tiriamo un altro po' qua sopra Un altro po' E poi un altro po' E poi basta Perché c'è Sono troppi Cioè avete capito No sono troppi Ora qua ci metteremo Le slabine Le slabine Che sono importanti Ok slabine Fatte Tatacchete Ok Non so se basta Ma insomma Vedremo 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 Facciamo Tatacchete Poi Facciamo Così 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 E poi basta Perché se no là dentro Non ci mettiamo Ne merito ciufolo Avete capito Ne merito ciufolo Che significa Quindi mettiamo Un po' di luci Un po' di luce E un po' di luce Perfetto Perfetto E qua possiamo Anche chiudere Rientriamo Da sotto Ok Entriamo da sotto Tant'è bello Entrare da sotto Dai Sei bellissimo Poi io voglio Entrare da sotto Ok Facciamo così E qua ci mettiamo Qua tutti Glossono Perché se no qua Cominciano a spawnare I figli di buona donna I figli di buona donna Non c'è Non pensate a male Non voglio dire Solo figli di buona donna Ok Però ci serve Un altro tipo di slab Ci serve un altro slab Da mettere sopra Lo spawner Lo spawner Avete capito Lo spawner Allora mettiamo lo spawn Mettiamo lo slab Lo slab Lo slab Ok Ecco qua Ma tu sono belli Con lo slab in mano Ok E questo spawner Non c'è Ovviamente la parte centrale E di questo Cioè mi piace Veramente tantissimo Cioè non c'è Quando c'è la parte centrale C'è la cosa più bella Che potesse Che può capitare Cioè avete capito Ok Facciamo così E mettiamo tutte queste Bellissimi spawner Pensa che gli spawner Sono disattivati Perché non vedo Che spawnano nemmeno qua Proveremo dopo A disattivare tutte le luce E vedremo bene Se Insomma Avete capito No Ok Ultimi 4 spawner 253 254 255 256 spawner Maronna mia Quanti Ok Leva molto Alluminite La tosse Che mi uccide Cioè Cioè La tosse Uccide Mi uccide Ragazzi mi uccide la tosse Che dobbiamo fare Ditemi voi che cosa dobbiamo fare Cosa dobbiamo fare Oltre che allevare queste alluminite Vai Ditemi voi Uh spawnano raga Spawnano Ciao belli Ciao mi siete mancati Ok adesso Andiamo qua sotto Perché Vi voglio uccidere Dai Venite qua sotto Se avete Le pillole Venite qua sotto Muovetevi Dobbiamo Apprendere Endercess Eccola qua Endercess Vai Spadina No che spada è questa Non mi piace Non mi piace Beh si Mi potrebbe piacere 120 Sharkless Vai Scendete da qua Muovetevi Quattro si talenti Ok raga Sono scesi Sono scesi Sono scesi Perché non avevo Il corso della gravità Cioè capite Non ci mettete Le cose della gravità Facendoci riuscire Space 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 Andate su crafting Poi andate su questo qua Generatore di gravità Se lo mettete qui Se si fanno così Nella crafting Tempolo normale I mob penso che rimangono in aria Avete capito Avete capito Dovete mettere Quello Ho fatto E ovviamente A me l'ex Sarirà Nel 2025 Levando 5 anni Aggiungendo Nei altri 10 Non ti capito Funzionano così Poi questi Se volete Che non li volete più Può fare Tattacche Ok Ok L'ha voluto tu L'hai voluto tu L'hai voluto tu Comunque Comunque raga Io penso che Finirò di ammazzare questi Blades E mi divertirò tantissimo D'ammazzare Tanti altri Comunque Questo video È tutto Io vi voglio bene Mi raccomando Ascoltate bene La prima parte Perché è la parte Più importante E raga Sono serio Su quella parte Veramente Vi voglio bene E ciao 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 Un bacione Un bacione Dal vostro Zucchino Succoso Ciao Ciao Ragazzate il video È finito Mi raccomando Guardatevi Video random E video consigliati E iscrivetevi Mi raccomando Se vi siete già visti questi video Ci vediamo domani Con un bellissimo video Ciao Ciao Un bacione Ciao Ciao